Tutto quello che facciamo, dal cibo che mangiamo al modo in cui viaggiamo, ha come conseguenza il rilascio di emissioni nell'atmosfera, con un impatto sull'ambiente. Ma ci sono alcune attività che impattano più di altre, circa il 2,4% delle emissioni globali di CO2 arriva dal traffico aereo, secondo i dati dell'International Council on Clean Transportation, ICCT. Insieme agli altri gas e al vapore acqueo prodotto dai velivoli, l'intero settore aereo è responsabile di circa il 5% del riscaldamento globale. I dati dell'inquinamento del traffico aereo a prima vista, potrebbe sembrare un contributo minimo, se si pensa all'impatto delle auto o dell'industria. Ma va considerato che solo una piccolissima parte della popolazione mondiale vola frequentemente, secondo l'ICCT, solo il 3% prende voli regolarmente. E anche nei paesi più ricchi del mondo, solo il 12-15% della popolazione prende spesso un aereo. Eppure, spiegano dall'ICCT, se tutta la popolazione mondiale prendesse un solo volo a lungo raggio all'anno, le sole emissioni del traffico aereo supererebbero quelle totali degli Stati Uniti. Volare produce 285 grammi di CO2 per ogni passeggero, la media è di 88 persone a volo, per ogni chilometro per corso. In confronto, un'auto ne produce 42 per passeggero per chilometro. Secondo le stime di Supporting European Aviation, a luglio 2019 in Europa il traffico aereo, oltre un milione di voli, avrebbe generato 20,7 milioni di tonnellate di CO2. Aerei meno inquinanti e compensazioni è anche vero che non tutte le compagnie inquinano allo stesso modo. Le linee guida dell'ICAO, l'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile, che è un'agenzia autonoma delle Nazioni Unite, fissano come soglia una riduzione dell'1,5% delle emissioni annue. Intanto, le maggiori compagnie aeree, con i temi green che si sono ormai imposti nell'agenda globale, mostrano una crescente sensibilità. Verso la questione ambientale, gli studi e le ricerche per accelerare una transizione ecologica del settore stanno aumentando con diverse prospettive, dall'efficientamento del parco mezzi già esistente alla ricerca di nuovi carburanti, come i biocombustibili, fino allo sviluppo di aerei elettrici a emissioni zero. Un passo intermedio è la cosiddetta compensazione, le compagnie aeree offrono ai passeggeri l'opportunità di compensare l'anidride carbonica prodotta dai loro voli, pagando un po' di più il proprio biglietto in modo che la compagnia possa finanziare progetti ambientali. Ma diverse inchieste condotte dalla stampa e da organizzazioni ambientaliste hanno dimostrato che non sempre i dati di queste compensazioni sono affidabili. Mentre alcuni paesi, come la Francia ad esempio, puntano a vietare i voli su tratte brevi per ridurre l'impatto ambientale. Lo scorso 10 aprile, la Camera Bassa del Parlamento francese, ha approvato in prima lettura una legge che impone alle compagnie aeree di abolire i voli interni che collegano due città tra le quali esiste già un'alternativa via treno inferiore a 2 ore e 30 minuti. Traffico aereo in calo negli ultimi anni, il traffico aereo è cresciuto molto. Nel 2018 i passeggeri sono aumentati del 6% sull'anno precedente. Nel 2019, la crescita è stata del 4% circa. Poi nel 2020, nell'anno della pandemia, il traffico si è ridotto di oltre il 90% in tutto il mondo, con un calo del 64% delle emissioni di gas serra del trasporto aereo solo in Europa. E considerando che la diffusione delle nuove modalità di lavoro da remoto sono destinate, almeno in parte, a restare, si prevede che anche i frequenti viaggi di business non torneranno ai livelli precedenti. Una tendenza positiva per l'impatto sull'ambiente, molto meno per il settore delle compagnie aeree in crisi. Il presente materiale di marketing è emesso da PICT e Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.pict.e, o in forma cartacea presso PICT e Asset Management, Europe, S. A. 6 B. Roodoo Fort-Niedergrenod, L. 2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni di investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui e su www.assetmanagement.pict.e nella sezione Risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICT e Asset Management, Europe, S. A. che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne la proprietà tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuire e vi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICTE nella sezione Risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICTE Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICTE Asset Management. PICTE non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICTE unicamente per finalità illustrative. PICTE Asset Management 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 PICTE Asset Management